Ciao ragazzi, scolato l'olio, pecorino e pecorino, io mi sono fatto il bucatino perché amo il bucatino adesso andiamo a saltare un padello, due minuti, e poi ci andiamo ad aggiungere il pecorino lo facciamo saltare facciamo saldare adesso ci andiamo, spingiamo la fiamma, ci andiamo ad aggiungere il pecorino sentite, 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 un altro salto, ok, spingiamo, pecorino, saltiamo, la fiamma spenta, il pecorino, andiamo a impiattare, ci vediamo per l'assaggio ragazzi allora eccoci per l'assaggio del bucatino, bucatino, aglio olio e peperoncino, perché a me piace proprio come tipo di pasta un po' che il peperoncino è sempre buono, veloce, saporita, buona fanno andare in gozza è un piatto e facciamo anche un goccio di vino andate poco tempo è completamente gustoso vi dà soddisfazione provatelo iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima ricetta un bacio da pute e goccia di vino ciao